ciao a tutti oggi sono qua a regensire quest'altra telecamera della ctronics anche questa telecamera è in modalità ptz quindi che è orientabile a rispetto di quella che ho regensito precedentemente e ne aumenta la qualità delle immagini siamo passati da un 1080p a un 2k 4 megapixel 2560 per 2440 di risoluzione possiamo orientarla per 355 gradi sull'asse orizzontale di 90 gradi sull'asse verticale anche in questo caso abbiamo una realizzazione tutta in materiale plastico sarà forse il nero però la rende un attimino un po più professionale antenne più piccolo e meno invadenti più carina all'estetica un aspetto un attimino davvero più professionale anche in questo caso abbiamo nella parte posteriore l'altoparlante qualità non eccezionale ma volume davvero molto alto perché abbiamo un audio bidirezionale quindi possiamo interagire fra smartphone e telecamera nella parte frontale abbiamo anche qui i quattro faretti a led davvero molto potenti che ci permettono di avere delle immagini nitide a colori anche in assenza totale di luce fino a circa 20 metri abbiamo delle buone immagini abbiamo i quattro sensori ad infrarosci per le immagini monocromatiche in assenza totale di luce e a differenza dell'altra abbiamo due obiettivi il primo da 3,6 mm che va bene per fare le panoramiche mentre il secondo è da 8 mm che è più predisposto per i primi piani perché possiamo avere degli zoom automatici due per ottico fino a quattro per digitale anche qui abbiamo probabilmente il sensore crepuscolare credo che sia nella parte inferiore accesso per poter inserire la scheda sd qui accettata fino a 128 gigabyte e come la precedente quando la scheda sarà piena verranno sovrascritti i dati più vecchi per riportare quelli in quelli nuovi abbiamo lo stesso cavo che sarà quello più difficile da amare nascondere in qualche cassetta altrimenti rimane brutto da vedere scomodo da da gestire abbiamo il cavo per la connessione in rete qualora volessimo connettere tramite filo il tastino di reset per riportare la telecamera alle impostazioni di fabbrica e la presa per poter collegare l'alimentatore perché è sprovvista di una batteria interna purtroppo è l'unico vincolo di questa telecamera questo è il suo alimentatore abbiamo il cavetto lan presa a cavo e i tasselli per poterla fissare credo di avervi detto più o meno tutto ora non ci riesce ad andare a provarla sul campo ok ora entriamo nell'applicazione citronix che io però già provveduto a scaricare come potete vedere ho già le due telecamere installate vi faccio vedere un attimino quelle che sono le impostazioni possibili ad esempio qui possiamo attivare o disattivare l'allarme e dargli una sensibilità impostazioni dell'allarme qua possiamo indicare le zone per le quali al rilevamento di un movimento si attiva all'allarme ed eluderne altre anche qui il livello di sensibilità abbiamo dalle impostazioni audio impostazioni video abbiamo davvero tante impostazioni qui possiamo impostare le mail per farci mandare la notifica impostazione la scheda sd e parecchio altro ora vi faccio entrare dalla telecamera vi faccio vedere un po quale che sono la qualità dei video queste qua sono io come potete vedere ha individuato la persona adesso mi allontano questa qui sono le registrazioni dalla telecamera quella a 1080p non potete vedere mi seguo sempre se mi muovo un po velocemente però mi perde qui vediamo un attimino se mi ritrova ok mi ha ripreso toccando lo schermo si attiverà questo trackpad non potete vedere cliccare la telecamera si sposta come possiamo quello vi ho già scritto abbiamo 355 gradi di regolazione sull'asse orizzontale e 90 gradi sull'asse verticale abbiamo la possibilità tramite il tasto telecamera che vedete qua sotto di effettuare una registrazione direttamente sullo smartphone e anche la possibilità di fare uno screenshot dall'immagine che stiamo vedendo con il tasto passiamo all'ascolto ambientale cliccando sul tasto del microfono invece possiamo interloquire con la telecamera ok queste sono immagini che arrivano dalla seconda telecamera quella con una risoluzione più elevata a due 2k anche qui l'auto tracking è abbastanza performante con movimenti ovviamente abbastanza lenti se ci muoviamo velocemente fa un attimino fatica a seguirci e si perde potete vedere le immagini sono decisamente migliori anche qui abbiamo comunque la possibilità di muovere la telecamera in manuale e come vedete si muove un pochino a scatti in questa telecamera abbiamo uno zoom ottico 2x ora mi allontano mi metto a circa 10 metri della telecamera attiviamo la vista ravvicinata potete vedere di buona qualità anche lo zoom grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti